Vedi quanto è bellino, va? Vedi o no? Dici dai che tanto questa ha! Mannaggia la madre! No di chi? Del cazzo! Stronzo! Vedi là! Oh no! E la mette questo però eh! La levo di coglio là! Ma io sto studiando come è fatto! E tu stai facendo stupido! Mette questo! Si capo la finestra e ti butti fuori! Mettelo per la sicurezza! Ma io non la mette niente! Bisogna stare al sicuro! Vedi chi ha per me ne vuoi? No no! Le minacce no! Però la sicurezza! Allora levo a stappare e levo le liquide! Le sicurezza! Mannaggia la madre! Ma sono qua queste mie gambe! No! Ah! All'angolo bisogna trasparirci il cordolo! Il cordolo lo metti all'angolo! E ti fa la prima parte che è la base! Oh! Questo, questo va a stello no? Vedi qua sotto! Vedi com'è a stello! Oh! Oh! Oh no! Hai capito o no? Sì sì ho capito! Ma a levele adesso! Vedi? A scrollo! Vedi? Queste secondo me hanno andato alle parti! Quelle più due alti! Quelle più due alti! Queste le metti in mezzo! e l'avvitatore e l'avvitatina! Capito? Oh! Hai capito? In mezzo a farlo stupido là! Questi di legno ti tocca metterli! No! Ma che? Sei sicuro? Ma non vanno di qui? No! A Pinocchio! C'è lì con bucone! Quelli sono angolati! Ne hai capito? Un ne va a mezzo di qui e mezzo di qui! E uno dov'ha? Questo dov'ha? Ma va un di qua un di là no? E dillo no! E' un'ora che lo sto a chiedere! Rimacchiappa col capo! Ah! Tu dici così o no? E perché pensi che è così! No! Alla non è questo il sotto! Perfetto! Questo è dei mezzo perché vedi? E' bucato da tutte le parti! Anche di qua! Alla non è sotto! Mi viene da ridere adesso! Scusa eh! Questa è la brucola! Mi pare che da quattro! Quattro! Questa! Questa è grossa! Questa! 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 Oh! Questa va bene! Ma perché? Te sto di aspetta! E ho capito! Perché guardavo io? Perché guardavo il verso! Ma che verso è? E' il verso che l'ha messo la rovescia! Ma che verso è? Il verso di coglione! Non lo sapete! Ma io coi scemi! Com'ora fa? Ma che fai? Gira di qua! Di qua verso dove? Dimmi verso nord o verso sud! Ma lo stringi? All'alentano? E allora dillo! Verso ovest? Camina a est! Scemo! Dove la girà? Svitato lì! Non la fa tanta lunga! Che si lascia e si rompe ancora! Uscì dopo il butto via! No! 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 Ma scegliete lì! Chiappano i buchi! Si chiacchiappe! Che buco ora chiacchiappa? Ah! Dove la mette quella? Vai mettendo il tuo buco! Quale buco? Mannaggiai quello che sta adesso! Si può fare le cose per mantenere l'attivo! Questo guarda! Guarda come chiacchiappa i buchi eh! O no era meglio il buco della sorca? Eh beh! Eh? Ma come? Come verrà a essere? Eh come adesso! Come verrà a essere? Col pelo lungo e riccio! Nero! Eh beh! Tiro! Ma... Ma che cazzo fai? Ah! Allora! Allora! No! Sopra! Annaggiai il bambino! No! Ah! Eh! 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 Perché? 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 Eh! Perché? Perché tu sei... Ammovolo! Qua fai? E la spegni! E gira! E la piana! Così la gira? Mannaggiai mamma mia! Ma questo! Ti do! No! E la piana! E la piana! E la fatta e pulaci qui! Così! E pulaci! E pulaci! E che? E pulaci! Chino! Che non è! Che? Che esso!